Lo scarto finale di oggi secondo me è anche un po' pesante rispetto allo sforzo che abbiamo provato a mettere in campo. Siamo partiti sicuramente con un'altra testa rispetto a gara 1 però c'è da dire che Savigliano sta facendo un'ottima serie, stanno tirando con buonissime percentuali anche perché stanno costruendo molto bene in attacco. Noi nei primi due quarti secondo me abbiamo avuto troppa frenesia rispetto a loro e loro sono stati bravissimi a punirci ogni volta che abbiamo forzato una situazione in attacco. Abbiamo avuto un'ottima reazione d'orgoglio, ce la siamo giocata secondo me punto a punto meridotamente e poi ripeto la differenza finale è anche troppo pesante. Una serie alla media delle 5, loro hanno vinto due volte in casa loro, possiamo farlo altrettanto noi in casa nostra perché adesso torniamo al Palagialdo nel nostro palazzetto sono convinto che caricheremo le energie e il palazzetto ci aiuterà a tirarne fuori ancora delle altre per provare a fare una cosa che adesso sembra un'impresa ma che comunque è ancora fattibile noi ci crediamo. Grazie a tutti.